I carabinieri della stazione di Sant'Agata Libattiati hanno denunciato per ricettazione due giovani, un 36enne di San Giovanni La Punta e un 26enne catanese, entrambi pregiudicati. Al riguardo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i carabinieri hanno intercettato i due giovani a bordo di una Fiat 500, mentre percorrevano a forte velocità il tratto di tangenziale in prossimità dell'uscita di San Gregorio di Catania. Controllato il veicolo, i militari hanno subito notato che sui sedili posteriori erano accatastate diverse seghe dentate da fabbro. Insospettiti da tale circostanza, si è quindi proceduto a perquisire in modo più approfondito l'automobile, nel cui bagaglio erano stati nascosti 21 catalizzatori di provenienza illecita. La coppia è stata quindi deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria, mentre i catalizzatori sono stati sequestrati per risalire ai proprietari dei veicoli dai quali sono stati smontati.